Lo so che non so buona a fan discorso e posso dire solo, ringrazio, so stata proprio bene superiore, trent'anni so passati e sembra ieri. Stasera a mezzanotte il suo cancello ne esaprirà per chiudere se ha le spalle, ma quante porte in faccia avrà a darmonno chi esce da bottega e c'ha mill'anni. Mi madre è morta manco che ero nata e di mi padre non so proprio niente, la carcerata non c'è mai imparente e specialmente si è la trovatella. Se non bastasse questo c'è sta sempre, chi vossa becca hai fatto fino a ieri, e se c'è proprio a di che stavi trento, un piatto dei minestre non lo trovi. Qui trento, ma sono troppo abituata a non far funzionare più sto cervello, e bene o male, letto callo callo, me la ritrovo dopo una maniata. Per questo vesco un giuro superiore, bene un piasto grazie, paro paro, e se potete voi facce non sgaro, tenete me qui trento, finché moro. E questo vesco un giuro superiore, bene un piasto grazie, paro paro, e se potete voi facce non sgaro, tenete me qui trento, finché moro. Grazie a tutti.